La parola di Dio fa un cammino dentro di noi. L'ascoltiamo con le orecchie. Passa al cuore. Non rimane nelle orecchie. Deve andare al cuore. E dal cuore passa alle mani, alle opere buone. Questo è il percorso che fa la parola di Dio. Dalle orecchie al cuore e alle mani. Impariamo queste cose. Grazie.